imbattibile non c'è nessuno sicuramente dagli scontri loro partiranno avvantaggiati ma sicuramente per noi una chance ci può essere soprattutto in casa e dopo vedremo la sicuramente cercare il nostro palazzetto vuol dire tanto perché ci sarà il pubblico delle grandi occasioni anche la rosa rispetto all'anno scorso aiuta perché siamo arrivati alle fasi finali che eravamo praticamente decimati poi dopo si vedrà stiamo preparando già da 15 giorni la semifinale colimola abbiamo già incontrati quest'anno in coppa italia sappiamo che squadra è l'abbiamo studiati sono una squadra forte compatta giovane che corrono dovremmo stare attenti scutare i nostri punti di forza e colpirli in velocità adesso si azzera tutto le forze in campo si vedranno in 120 minuti e dobbiamo dare il massimo come è fatto in coppa e cercare di vincere nuovamente ciao ciao ciao